I Champions Camp sono da un po' di anni uno degli strumenti più importanti di valorizzazione del nostro penino durante il periodo estivo, soprattutto di una parte del penino anche sicuramente meno frequentata e meno nota ma con emergenze ambientali, architettoniche, culturali di indubbio valore e quindi sono un'opportunità importante di fare sport, di fare aggregazione, hanno un ruolo sociale non indifferente e consentono in questo modo con professionalità, con capacità, con tanti campioni che si mettono al servizio di questo bellissimo progetto di valorizzare il nostro territorio attraverso il turismo sportivo che sta rappresentando per il nostro penino sicuramente la strada principale per rilanciarlo e valorizzarlo soprattutto nel periodo estivo e quindi credo che sia una delle realtà più importanti e per questa ragione la provincia continua ad essere al fianco dell'associazione Gallesi che da un po' di anni ha dimostrato la propria capacità di innovazione e quindi è in grado di garantire anche una qualità indubbia per tutte le migliaia ormai di ragazzi e ragazze che non solo della nostra provincia decisono di frequentarle durante l'estate. Sì, è il quarto anno che come Avis provinciale abbiamo aderito a questa richiesta che è stata condivisa dall'esecutivo e dal Consiglio provinciale di aderire a questa iniziativa dei giovani in campo sportivo da parte dell'associazione sportiva Gallesi. È un aspetto estremamente importante di collaborazione perché noi promuoviamo gli stili di vita e la salute nelle giovani generazioni. È un contatto estremamente importante che coinvolge tanti giovani in tante discipline sportive e che potranno nel tempo utilizzare questi insegnamenti dal punto di vista della solidarietà e nella disponibilità a donare sangue. Credo che i punti di contatto siano moltissimi con l'organizzazione del Champions Camp. Parto da un presupposto. Loro, come noi, utilizzano lo sport, in questo caso una forma di sport, di attività sportiva, come elemento di risposta a un bisogno sociale. Lo sport ha questa grossa valenza, soprattutto nella società di oggi. Può avere questa valenza ancora più marcata per la società del futuro. Credo che il Champions Camp abbia capito questo e, oltre ovviamente a questa risposta sociale, riesce a dare anche una grande qualificazione tecnico-sportiva e dare anche un segnale ad alcune società sportive, o molte società sportive, scusi, del territorio, che hanno un'esigenza anche di qualificazione della loro proposta, trainando come riferimento anche delle opportunità che, credo, i bambini, le famiglie, eccetera, poi ricercano nella nostra provincia. E il Champions Camp, da questo punto di vista, è riuscito a dare una risposta in questo ambito. Il CSI, dal lato suo, sostiene questa attività perché riesce a dare qualificazione motorio-sportiva abbinata a una grande capacità di dare risposta ai bisogni sociali. Per questo motivo il CSI non poteva mancare anche quest'anno a sostenere questa iniziativa. Allora, i Champions Camp 2011, alla sesta edizione, inizieranno dal 12 giugno fino al 30 luglio e vedranno la realizzazione di quattro tipologie di camp. I camp monosportivi, con calcio, pallavolo, pallacanestro e la novità della pallamano. I camp multisportivi, all'interno dei quali ci sarà la possibilità di divertirsi con una dozzina di discipline sportive, con la novità del 2011 del Judo. I mini camp, sempre a base multisportiva, per bimbi dai 7 ai 9 anni. E i camp di specializzazione di volley e di basket, all'interno dei quali c'è la grande novità quest'anno della collaborazione stretta dalla Gallesi Champions Camp con le società pallavolo Modena e Universal Volley Modena.